Ragazzi, abbiamo visite. Dipendio sindacale al minimo in nero, contributi ridottissimi, pensione completa, ovvero vitto e alloggio. Bene, che dite? Che fate? Prendiamo! Efficienti, ignorate, ma non capite che sono venute per fregarci. Buongiorno! Dobbiamo partire per una missione. Una missione di guerra, sì. Ha fatto venire tre extracomunitarie per ammazzarci, per farci fuori, ma lo capite? Sì, in modo c'è, c'è. Mi farebbe? Pagare! Vecchi rimbambiti!